figli miei venire a voi e rivelarmi a voi è grande gioia per il mio cuore materno questo è dono del mio figlio per voi e per gli altri che verranno come madre vi invito amate mio figlio al di sopra di tutto per poter amarlo con tutto il cuore dovete conoscerlo lo conoscerete con la preghiera pregate con il cuore e consentimento pregare significa pensare al suo amore e al suo sacrificio pregare significa amare dare soffrire e offrire a voi figli miei invito ad essere apostoli della preghiera e dell'amore figli miei questo è tempo d'attesa in questa attesa vi invito all'amore alla preghiera e alla fiducia mentre mio figlio guarderà nei vostri cuori il mio cuore materno desidera che lui in essi veda un'incondizionata fiducia ed amore l'amore unito dei miei apostoli vivrà vincerà e scoprirà e scoprirà il male figli miei io fui calice dell'uomo dio fui strumento di dio perciò a voi miei miei apostoli vi invito ad essere calice dell'amore puro e sincero di mio figlio vi invito ad essere strumento attraverso il quale tutti coloro che non hanno conosciuto l'amore di dio coloro che non hanno mai amato scopriranno accetteranno e si salveranno vi ringrazio figli miei il signore tocchi il vostro cuore e vi doni la pace vi saluto e vi abbraccio in modo speciale la vostra piccola matita del cuore